È un programma di insegno proprio dell'unicità del nostro territorio, delle nostre pollicine e di tutti i vini bianchi e rossi comunque che sono prodotti sull'enoturismo. È una cosa cui tengo in modo particolare proprio l'enoturismo, perché questa forma di promozione del territorio, di promozione delle nostre unicità è importantissimo e lo vedremo esposto a tutti i nostri produttori vitivinicoli nelle loro forme, nelle loro diversità insomma. Per cui è una grande importanza anche proprio dal punto di vista di promozione dei nostri vini e della nostra pollicina.